Buongiorno a tutti, nella settimana precedente abbiamo annunciato a tutte le autorità competenti che il giorno 11 avremmo fatto una manifestazione presso l'aeroporto Sant'Anna d'Isola Caporezzotto. Il Presidente Ferrari ha trovato due minuti per risponderci dicendo che siamo in ritardo sulla questione che l'aeroporto va benissimo con le sue nuove sedie e con il suo nuovo bar perché è l'unica cosa che hanno finanziato in quell'aeroporto negli ultimi 4 anni. Tra l'altro SACA all'SPA oggi alle 13 ha trovato il tempo di sabato per scrivere al Partito Democratico dicendo che quella manifestazione non è autorizzata e che alla violazione del perimetro aeroportuale prevede l'arresto. Allora vogliamo comunicare al Presidente Occhiuto, al Presidente Ferrari e al Presidente della SACA all'SPA che noi lunedì saremo là attendendo qualcuno che venga ad arrestarci altrimenti parleremo dei problemi dell'aeroporto, della città di Crotone e del nostro territorio perché è l'unica cosa che conta. Aspetteremo se qualcuno venga ad arrestarci e saremo pronti a farci arrestare. Sapendo a cosa andiamo incontro saremo lì giorno 11. Grazie